In partenza su Rete55 un nuovo spazio dedicato alla salute. Al nostro fianco l'Università dell'Insubra, partner prezioso per capire più da vicino la sanità, le tecniche di cura e chi se ne occupa, i giusti consigli per prevenire disturbi e patologie e i migliori interventi per affrontarli. In studio, con noi, il chirurgo Antonella Scorza, nelle vesti di opinionista e cinghia di trasmissione tra gli addetti ai lavori e il pubblico generalista. Ospiti della prima puntata dedicata al Trauma Center di Varese, Giuliano Zocchi, responsabile della struttura semplice, e Murad Odeh, chirurgo d'urgenza di origini palestinesi, esperto di quelle ferite di guerra oggi drammaticamente frequenti in zone vicine e lontane da noi. Una competenza, la sua, che anche nella più tranquilla varese può tornare utile. Le lesioni, quelle che si definiscono blast in giuriscus, sono delle lesioni da scoppio piuttosto che delle lesioni d'arma da fuoco che sono magari più presenti in alcune zone dove c'è un conflitto. Normalmente qua, per fortuna, nel nostro contesto si vedono poco, però quando si vedono, evidentemente chi ha già fatto un'esperienza dove ha trattato diversi tipi di lesioni di questo tipo, magari ha qualche idea in più su come affrontare questo tipo di lesioni. In salute, vi aspetta lunedì sera alle 20.10 su Rete55, canale 88 del Digitale Terrestre.